Quest'anno la novità che abbiamo presentato oggi è la nuova tessera Axi, che abbiamo definito Axi Plus, la nostra tessera associativa che lo scorso anno l'abbiamo distribuita a circa 18.000 soci. Quest'anno abbiamo arricchito di contenuti questa tessera, quindi accanto alla classica copertura assicurativa che viene erogata con il possesso della tessera abbiamo introdotto nella tessera una serie di vantaggi. Quindi siamo andati a trovare alcuni nostri partner della Strapapastra Palermo e gli abbiamo detto di intervenire. Tra questi mi piace citare la carta idea che in pratica con il possesso della tessera Axi verrà attivato tutto il circuito carta idea, quindi questi 400 esercizi commerciali convenzionati di Palermo e provincia, verrà donata la sorrisi card del gruppo Sisa con dei punti accreditati, verrà anche data a ogni possessore la card tecnica sport con una serie di bonus e tante altre cose. Qual è il messaggio? Il messaggio è quello di fare rete, di cercare di crescere insieme. Ringraziamo questi nostri partner che ci hanno dato fiducia. E' l'anno zero questo qua, quindi non facciamo discorsi velleitari. Sicuramente ci ripromettiamo di ribadire i livelli di tesseramento dello scorso anno, magari superandoli. Grazie anche alla collaborazione e all'aiuto delle nostre associazioni sportive. Quindi ogni tesserato riceverà un Q-Code, scannerizzando questo Q-Code posto sul retro della tessera, si potrà collegare al sito, vedere tutte quante le convenzioni al momento attive e in più tramite il proprio numero di cellulare, tramite il proprio smartphone, riceverà un messaggio di benvenuto dal gruppo Cartaidea con il quale, seguendo l'app, verrà accreditato a entrare nello stesso circuito. Lo stesso discorso è Sisa e lo stesso discorso con gli altri partner. Ma soprattutto dobbiamo ricordare che fare sport è importante. Sì, fare sport è importante. Infatti questa iniziativa vogliamo rivolgerci anche a quello che è il nostro mondo privilegiato durante la Strapapa, che è il mondo della scuola. Quindi abbiamo già una serie di... abbiamo anche un progetto che è in fase di realizzazione, che vogliamo sottoporre all'attenzione del mondo scolastico, che oggi non è stato coinvolto in questo nostro appuntamento, perché vogliamo dedicare un appuntamento proprio per loro. È importante fare sport, è importante. Questo è anche un modo, secondo me, per dire che lo sport è per tutti. Dentro la nuova tessera Axi Plus ci saranno anche delle novità per quanto riguarda la partecipazione alla Strapapa in programma a marzo.